Dal dispositivo parte un raggio, noi ci concentriamo sulla luce che arriva dal dispositivo che entra negli occhi. E quindi questa luce in realtà significa la chiarovigianza pilotante e la previsione pilotante già sviluppate. E poi mettiamo questa luce sulla punta del raggio che parte dal dispositivo e va verso l'immagine, verso il quadro. E poi la luce che deriva dal dispositivo si unisce alla luce, al raggio di luce che deriva da noi, che parte da noi e va verso il quadro. E così noi spiritualmente percepiamo l'impulso pilotante che si sposta attraverso le lenti, da una lente all'altra. E spiritualmente quindi percepiamo questo impulso. E cerchiamo anche di fare una concentrazione molto alta su questa luce sulla luce che vediamo svilupparsi in questo quadro. Quindi noi continuiamo a concentrarci sulla luce e poi sviluppiamo questa luce oltre e oltre. E intanto continuiamo anche a conoscere la percezione della persona risuscitata. Quindi iniziamo a capire come la persona risuscitata percepisce la realtà. La persona risuscitata può vedere come la persona riscita, ma la persona riscita può vedere come la persona riscita. Lui vedeva che l'uomo poteva guardare con gli occhi dell'uccello e l'uccello poteva guardare con gli occhi dell'uomo. E allo stesso tempo gli animali possono capire a cosa pensa l'uomo se lui li vede. E possono anche sapere cosa c'è davanti se l'uomo non li vede attraverso la vista fisica. Così è apparsa l'unione spirituale degli animali e dell'uomo. Così.